Buonasera telespettatori di Nettuno TV, ben ritrovati con l'appuntamento con l'informazione. Buonasera anche a chi ci segue in streaming sul sito www.nettunotv.tv Telegiornale di questa sera che apriamo parlando di cronaca perché un turista bolognese di 75 anni in vacanza con la figlia a San Salvo è morto questa mattina nelle spiagge abruzzesi mentre passeggiava sulla battigia. Un malore improvviso quello che lo ha colpito e di fatto lo ha portato ad accasciarsi a terra. Probabilmente il forte caldo di questa stagione deve avergli prodotto problemi cardiocircolatori sono immediatamente scattati i soccorsi della Capitaneria di Porto e dei sanitari del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare perché ha cessato di vivere e il suo cuore ha cessato di battere da lì a pochi istanti. Cambiamo argomento, parliamo ancora di Borgo Panigale, com'è la situazione in questo momento? Abbiamo delle immagini girate questa mattina che fanno capire come pian piano la situazione stia tornando quasi alla normalità, diciamo così. Questa è la gru che ha agito negli ultimi giorni per distruggere la parte di ponte che era rimasta in piedi. Oggi è stata caricata su un tir per essere trasportata lontano appunto dalla zona di Borgo Panigale. Ciò vuol dire che il suo tempo a Borgo è completato e dunque possono cominciare la seconda fase di lavori, la seconda fase di gestione dei lavori. Di fatto la zona in questo momento deve essere ripulita dalle macerie causate appunto dalla rottura del ponte e anche dalla spaccatura totale fatta appositamente per arrivare poi alla ricostruzione. Si parla già di alcuni tempi, le stime prevedono che il ponte possa essere completato entro la fine di ottobre. In questo momento entro la settimana prossima tutte le macerie verranno portate via, quello che rimaneva del ponte verrà portato via e poi nei prossimi giorni entro la fine di agosto dovrebbero arrivare le 12 travi che serviranno per costruire il nuovo ponte. Arrivano da una ditta della provincia di Pescara, arrivano quindi dall'Abruzzo e in questo modo si potranno cominciare i lavori per la ricostruzione. Una ricostruzione che potrebbe, dovrebbe impiegare tra il mese e mezzo e i due mesi. La stima è indicativa, fissata anche da Autostrade per l'Italia, è legata appunto a un completamento dei lavori entro la fine di ottobre. Queste sono le date che ovviamente dovranno essere valutate col passare dei lavori e settimana dopo settimana. Intanto è stato definito un numero verde, l'800 686868, che è il canale ufficiale che il Comune di Bologna ha messo a disposizione per i cittadini danneggiati dall'incidente. I moduli ufficiali e non possono aspettare, ognuno poi li utilizzerà nel suo percorso risarcitorio. L'intesa è raggiunta con il Comune, con la compagnia assicurativa Allianz, che tutela loro fratelli SPA, l'azienda proprietaria dell'autocisterna, esplosere un ed è in autostrada, traccia intanto una via chiara. Anche Allianz infatti ha confermato il numero verde, che ripeto è essere l'800 686868. Allianz dice abbiamo sprontamente attivato le procedure per rispondere in modo efficiente alle necessità di chi è stato coinvolto. Allianz sta dialogando poi con Ania, l'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici, per l'applicabilità dell'accordo associativo previsto in queste situazioni di incidenti che coinvolgono un numero elevato di autoveicoli. Cambiamo adesso argomento, parliamo di cronaca nella città di Bologna, perché è stato arrestato e sono state fatte denunce per lesioni personali, danneggiamento e violazione di domicilio. A getto di cose pericolose, a carico di un 21enne nato in Italia, di origini senegalesi, residente nel Bresciano, che nel pomeriggio di mercoledì in zona Bolognina ha scaricato la sua rabbia sulla compagna, una 24enne italiana. Tutto è cominciato nel primo pomeriggio, quando la donna si è presentata negli uffici della Polizia Municipale, in preda a una forte stato di agitazione e anche con echimosi al volto. Ha riferito di aver avuto un diverbio col compagno, in quanto aveva deciso di lasciarlo, scatenando però la sua rabbia. È riuscita a fuggire dopo che l'uomo aveva cominciato a colpirla con aggressione, con colpi ripetuti e aveva portato anche alla devastazione dell'appartamento. La ragazza è riuscita a raggiungere il comando di Polizia e anche ad allertare i condomini stessi, che poi hanno allertato la polizia. Gli uomini ufficiali sono arrivati, saliti all'appartamento, hanno trovato la porta d'ingresso spalancata e hanno visto la cucina e la sala completamente a soccuadro, oltre a cocci di vetro su tutto il pavimento e macchie di sangue su un muro. Deveva stata anche la camera da letto, un televisione addirittura era stato lanciato in terrazza. Tutto questo era stato causato appunto dall'uomo. L'uomo nel momento in cui è stato incontrato dagli agenti era in stato confusionale, con i vestiti sporchi di sangue e che tentava di allontanarsi dopo essere stato trattenuto da alcuni condomini. Alla richiesta di mostrare i documenti, il soggetto ha dato risposte confuse, oltre ad avere assunto sostanze stupefacenti, ha detto questo. E appunto, come detto alla fine di tutta questa storia, l'arresto e le denunce personali gravi. Cambiamo ancora argomento, rimaniamo però a parlare di cronaca perché sono stati i cattivi odori a guidare la Polizia Municipale di Bologna in una macelleria in zona Mazzini, chiusa ieri dai vigili urbani assieme al personale ASL per gravità irregolari igieniche. Nei guai è finito un cittadino residente a Bologna, originario del Bangladesh, e oltre alla chiusura immediata della sua attività, al commerciante sono stati elevati i verbali sia dalla Polizia Municipale sia dall'ASL per un totale di 6.500 euro. L'accertamento è scattato in seguito ad alcune segnalazioni di cattivi odori provenienti da alcune attività commerciali vicine alla zona. Un ortofrutto, una macelleria e un'attività mista macelleria alimentari. Il problema dei cattivi odori era causato da procedure irregolari della macelleria nella lavorazione delle carni, spiega il Comune di Bologna in una nota. Per questo motivo l'attività è stata subito chiusa e dovrà passare al vaglio dell'ASL per poter riaprire. Sono state riscontrate anche altre irregolarità, tra cui l'etichettatura della frutta e l'esposizione dei prezzi. Cambiamo adesso argomento, cominciamo a vedere anche i servizi del lavoro a Nettuno TV, perché sono stati consegnati 174 condizionatori agli anziani, over 65, per affrontare il caldo estivo. Nel progetto Nuovi Orizzonti per il benessere dell'anziano, un'associazione anziativa creata dall'associazione di volontario Andromeda, che fornisce condizionatori agli anziani in difficoltà. Andiamo a sentire i volontari e anche le persone che hanno avuto questa mattina i condizionatori. L'iniziativa è nata 14 anni fa e nasce da una valutazione dei bisogni dei cittadini, dei bisogni degli anziani. Oggi abbiamo portato l'ennesimo condizionatore, perché a noi le segnalazioni pervengono direttamente dai cittadini, oppure dalle AUSL, pervengono dai servizi sociali del Comune di Bologna. Ad oggi abbiamo consegnato 192 condizionatori. Chiaramente il condizionatore lo diamo a chi davvero ha un'età superiore ai 65 anni, a chi ha un disagio economico, conclamato, e a chi ha anche delle patologie rilevanti, proprio della terza, della quarta, ormai della quinta età. E' contento? E' contentissimo, mi ha salvato la vita. Io soffro molto col caldo, mi sono sentito molto meglio. Ci dormo io qua al pomeriggio, prima non succedeva. Viene anche la signora che è qua di fianco, si rifugiano qui. Questo è un rifugio peccatorio di quelli che soffrono il caldo. Sono contenta perché, oltre che fa fresco, è stata fatta una cosa molto fatta buona. Nel pomeriggio, le ore più calde, qui è proprio un paradiso, devo dirlo. Con le temperature alte, così, si soffre anche fisicamente. Ti giro la testa, si sta male col caldo. Allora, come anziani, avevamo bisogno di un po' di rifrigerio. Torniamo a parlare di cronaca perché è tornato a colpire a San Lazzaro il piromane dei cassonetti. Ieri notte, infatti, pochi minuti prima dell'una, un contenitore della spazzatura è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Nonostante l'allarme sia stato immediatamente lanciato dai condomini, anche un balcone ha bruciato in pochi istanti, dopo che le fiamme si sono sviluppate. A commentare l'episodio, il sindaco di San Lazzaro, Isabella Conti, che dice che le telecamere che abbiamo installato hanno ripreso l'accaduto. Si tratta sempre della stessa persona, già individuata per gli incendi dei cassonetti in aprile. Sono preoccupata perché vi è un'escalation del potenziale pericolo. Prima solo cassonetti isolati, poi cassonetti vicini ad autovetture ed ora un cassonetto in prossimità di un condominio talmente vicino che le fiamme lambivano un balcone che hanno danneggiato. Mi auguro, dice ancora la Conti, che vi siano le condizioni per prendere provvedimenti urgenti nei confronti di questo soggetto, che evidentemente non può rimanere a piede libero perché mette a rischio l'incolumità dei cittadini. Cambiamo argomento, rimaniamo nella zona della pianura, andiamo a Dozzano, continua la rassegna agosto con noi e Umberta Conti, la direttrice artistica del Festival, ci racconta come sta andando e quelli che saranno gli appuntamenti dei prossimi giorni. Abbiamo Tiziana Vivali, Vilma Goic, Marco Ferradini, poi ci sarà anche il grande Andrea Mingardi, poi abbiamo Giovanni Nuti che lui ci canta, appunto Alda Merini che è un grande attore, interprete e anche un grande musicista. Quindi la qualità quest'anno veramente ha superato proprio i limiti perché ogni anno cerco sempre di dare, sempre di più e vedo che ce la faccio, non lo so, gli viene questa grande forza, questa voglia proprio di creare sempre di più questo evento che per me è una missione perché in effetti tutto quello che riusciamo a dare sia il pubblico e anche le persone che sono nella cucina e ricavato va tutto per la prevenzione, per l'Istituto Ramazzini e per la ricerca. Sono molto brave le donne qui della cucina dove fanno i tortellini a mano, la vecchia tradizione della tagliatella, a tortellino, quindi è così la vera cucina di Ozzano, dell'Emilia, agosto con noi. Apriamo adesso la pasina sportiva, il Bologna vi ricordo scenderà in campo domenica contro il Padova nel turno di Coppa Italia. Sono già stati venduti 8 mila biglietti per la sfida di domenica sera alle ore 21 che sarà arbitrata da Fabri e sarà lui dunque l'arbitro della gara. Intanto la squadra è scesa in campo ieri pomeriggio, prove generali a Sestola contro la Primavera, vittoria per 6 a 0, buone indicazioni che arrivano dalla coppia d'attacco titolare di ieri composta da Falcinelli e Palazzo che probabilmente saranno i titolari anche nella sfida contro il Padova. Andiamo però a vedere gli highlights e i gol della gara di ieri. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.